Sono Veronica Barbato, partenopea, cresciuta a Reggio Emilia, ora vivo e lavoro in Svizzera a Lugano. Mi circondo di arte ogni giorno. Sono un'artista che si forma attraverso il teatro per più di vent'anni. La danza contemporanea ha direzionato la mia ricerca artistica che unisce performance e fotografia, sviluppando un mio linguaggio visivo, esplorando la forza magnetica del contrasto e del vuoto. Nel 2020 partecipo al Master di Fotografia allo spazio Labò di Bologna con Mustafa Sabag. Mustafa ti cambia, ti cambia in meglio rendendoti un'artista libera, aprendoti la mente e il cuore. La fotografia è un talento sacro che mi ha permesso dopo la danza di continuare a scrivere poesie senza utilizzare le parole. A Mediterraneo Fotografia presento il progetto Tua sorella. A 23 anni Mary si è suicidata e attraverso l'arte di strada le sto ridando una seconda possibilità, facendola viaggiare il mondo come non è riuscita a fare. Una mostra in continuo movimento ispirandomi alla street art e renderla un'icona. Con lei ho vissuto nel dramma e con lei ho toccato la magia dell'amore. Le dovevo un grazie speciale. Nelle foto inserisco colori fluo per rappresentare le allucinazioni. I glitter descrivono la falsa illusione della droga e frasi tratte dai suoi diari segreti. Con questo progetto ho sistemato tutto, tutto ciò che dovevo. Un riscatto sociale e un vero e proprio atto spirituale. Dietro ad ogni mio lavoro c'è un atto performativo. La performance è il risultato di un'interazione con l'improvvisazione, con la consapevolezza di una ricerca di forme potenti, profonde e vere. Dedico ogni mia bellezza della mia vita a mio figlio, mio marito, i miei genitori, Christopher e naturalmente Mary.